Il benvenuto nella ridente frazione di Isernia di Colle Pagano lo offre immediatamente il cartello di velto, giacente al suolo da tempo, che indica il nome della località. Una grave distrazione di chi dovrebbe occuparsene e che invece offende i cittadini della contrada. Poi basta andare avanti ed arrivare nell'area in cui è sistemato l'enorme lungo palo, sede di una miriade di antenne e dove si trova anche il serbatoio comunale dell'acqua. Lo spettacolo è indecoroso. Erbacce, sterpaglie, ortiche. Qui riescono a nascondersi vipere e serpenti vari, più volte già avvistati in loco. Una situazione di pericolo permanente per le bambine e i bambini residenti che giocano l'aperto vicino alle loro abitazioni. Le famiglie del posto da anni sollecitano l'intervento dei responsabili del comune. Ultimamente si sono rivolti anche a alcuni esponenti della nuova amministrazione comunale, ma il risultato è sempre lo stesso. Nessuno fa niente e l'area continua a versare in un vergognoso stato di totale abbandono. Esasperati, ora i cittadini hanno chiesto l'aiuto di Telemolise. Le immagini che state vedendo sono più esplicite di qualunque parola. Speriamo che sveglino qualcuno.